Vigilia di campionato con le candeline per la Turris che compie oggi 77 anni dalla sua fondazione col nome di Polisportiva Turris nell'allora campionato di prima divisione. I corallini reduci dal K.O. interno di domenica scorsa contro il Monopoli si preparano per la difficile trasferta di Foggia con fischio d'inizio allo stadio Zaccheria alle ore 20.30. I rossoneri che quest'anno sono nuovamente sotto la guida di Zenec Zeman, il bohemofo allenatore dei pugliesi nelle stagioni di Serie A, sono reduci dal reboante successo per 4-1 contro il Potenza e sembrano avere le carte in regola per disputare un campionato di vertice. La squadra di Mr. Caneo invece, nonostante il discreto gioco mostrato nelle prime uscite, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato, da costruire principalmente con una maggiore pericolosità offensiva, vista l'unica rete siglata nei primi 180 minuti del torneo. Toccherà quasi sicuramente a Santaniello provare a perforare la difesa dei Satanelli. È lui l'uomo su cui ha puntato la società e a cui sono affidate le speranze di evitare i patemi vissuti sul finale della scorsa stagione.